Concerto di Natale all'insegna di canti e letture della tradizione piemontese il 19 dicembre al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino per iniziativa del Consiglio regionale in collaborazione con il Centro Studi Piemontesi, CADA Studi Piemonteis. Un appuntamento augurale ormai entrato nella tradizione dell'Assemblea Legislativa che quest'anno ha coinvolto il coro e l'orchestra di Progetto Futuro Musica diretti dal maestro Aldo Sardo, l'ensemble Pianà, la voce solista Laura Conti e l'attore Mario Brusa che ha condotto la serata. I canti della tradizione piemontese e i testi di alcuni dei suoi autori più rappresentativi, da Guido Gozzano a Nino Costa, da Luigi Olivero a Giovanni Tesio, si sono accompagnati con alcuni dei più celebri brani che richiamano le suggestioni del Natale, dalla Deste Fidelis a Betlemme di Giudea a Tuscendi dalle Stelle. I canti della tradizione piemontese, canti natalizie indubbiamente, è un momento speciale. Innanzitutto il Consiglio regionale esce dal proprio palazzo per ospitare, essere ospitato all'interno del Conservatorio di Torino questa bellissima serata. Diamo la disponibilità a tutti i cittadini piemontesi di poter avvicinare le istituzioni e soprattutto dare la possibilità ai cittadini stessi di poter ascoltare un canto natalizio piemontese anche in italiano. Questo per un buon augurio, di buon Natale e felice anno nuovo. Prima del concerto Albina Malerba, in occasione dei 50 anni del Centro Studi Piemontesi, ha consegnato una medaglia al Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia. Un omaggio per ricordare l'attività della Cata Studi Piemonteis, la mezzosecola impegnata a conservare la memoria e a tramandare i saperi del territorio, ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro. Lo Spirito nasce, devo dire, una ventina d'anni fa, esattamente 21 anni fa, quando il Centro Studi Piemontesi, la Cata Studi Piemonteis, ha voluto organizzare la prima via piemonteisa, la veglia, una veglia di Natale, perché ci pareva importante, bello, significativo, che nei tanti appuntamenti natalizi di musica di tutti i generi e di parole di tutti i generi ci fosse un momento per la nostra gente, per farsi gli auguri, la veglia è un momento anche di speranza, di gioia, il Natale è questo, per poter farsi gli auguri usando le parole dei nostri, le parole che hanno attraversato le nostre strade, le nostre case, tutta la nostra regione nei secoli.